Siamo nel cuore della Sabina oggi per presentarvi una tenuta in vendita tra Casperi e Cantalupo. Abbiamo 6 ettari di terreno con seminative d'uliveto, un casale, un fienile e un fontanile. Ma tu, la vuoi una casa? Questo storico casale si sviluppa su tre livelli per circa 350 metri quadrati. Al piano seminterrato abbiamo le caratteristiche cantine, mentre ai piani terra e primo l'abitazione vera e propria. Entrando al piano terra troviamo un ampio ed elegante salone con camino e travi in legno. Due camere da letto, un bagno ed una spaziosa cucina. Salendo al piano superiore vediamo un caratteristico tinello ed una comoda seconda cucina. Un signorile studio con un terrazzo per godere la vista ed altre due camere con bagno. Completano la proprietà un fienile di circa 120 metri quadrati, una grotta e un forno a legna. Questo antico casale può essere tuo, un'oasi immersa nella splendida campagna sabina.